Per fare esercizi di integrazione sia per studiare problemi di massimo e minimo su insiemi contenuti in R2 e in R3, è spesso necessario descrivere delle regioni, dei domini di R2 e in R3. Allora, volevo fare questa cosa in maniera un po' più sistematica, partendo da alcuni esempi, però facendovi vedere, quindi sottolineando quelli che sono alcuni aspetti fondamentali. Allora, prendiamo qualche esercizio e vediamo di... Allora, considerare la regione del piano tale che, delimitata da D, contenuti in R2, delimitata da... No, non metto al sistema, questo è quello che dobbiamo utilizzare. X quadro uguale a Y. Poi... X quadro uguale a B Y. Poi... Y quadro uguale a Alfa X. Y quadro uguale a Beta X. Dove... 0 minore di A minore di B. 0 minore di A minore di B. Allora, questo è un primo caso piuttosto semplice. Andiamo a descrivere questa regione. Allora, andiamo a disegnare il piano XY. Allora... Queste sono due parabole... Allora, diciamo per esempio, se A è uguale a 1 e B è uguale a 2... Giusto per capire di che si tratta. Ma qui avremo... X quadro... Scusate... Sì... X quadro uguale a Y. Sarebbe Y uguale a X quadro diviso A. E qui abbiamo X quadro uguale a B Y. Questa è X quadro uguale a Y. Questa è X quadro uguale a B Y. Siccome... Abbiamo... B maggiore di A, questa sta sotto. Poi qui abbiamo altre due parabole, però stavolta sono parabole che hanno per asse l'asse X. Quindi abbiamo Y quadro uguale a Alfa X. Dobbiamo fare un disegno non troppo cattivo. Quindi qua abbiamo Y quadro uguale a Alfa X. E poi... Abbiamo Y quadro uguale a Beta X. Y quadro uguale a Beta X. Anche qui, siccome Beta è maggiore di Alfa, Beta sta di sotto. Ok? Quindi... Purtroppo con il disegno che abbiamo fatto la zona viene abbastanza piccola. Ma l'unica zona delimitata da tutte e quattro queste... queste... diciamo... luoghi del piano, no? Quindi il Z di queste equazioni è questa zona qua. Allora... la ingrandisco un po', noi abbiamo... qui... abbiamo... una zona... fatta così, più o meno. Ok? Quindi... cosa ci interessa di D? Ci interessa... Allora... D... possiamo scriverla... come l'insieme delle XY del piano... tali che... stavolta si posso mettere al sistema... allora... posso dire che... la Y è... compresa... la... scusate... la... Y... Z... è compresa... tra X quadro su B... e X quadro su A... mentre la X è compresa... tra... Y quadro... su beta... e... Y quadro... su A... sarebbe questa zona qua... O... Mentalmente... ci interessa... rappresentare questo insieme... come... non so se avete mai visto un disegno... meccanico... in cui c'è l'esplosione... dei componenti... cioè... quando disegnano un pezzo di una macchina di Formula 1... eh... non lo so se si chiama così... so che in genere chiamano l'esplosione del... quindi... voi avete... questa zona qui... la parte interna... è dove vanno... tutti e quattro... le disequazioni... ok... allora... vedete che... noi abbiamo un insieme... definito da quattro... diseguazioni... ogni disequazione... non mi fa calare... a meno che... non ci siano casi particolari... che ne so... per cui... due disequazioni... mi diranno in realtà... un'equazione... ma... ogni disequazione serve a ritagliare... un pezzetto della regione... ma la regione... ma la regione... rimane sempre di dimensione 2... cioè... questo è un insieme... bidimensionale... nel senso che la sua parte interna... eh... non è brutta... in R2... qui abbiamo X... e qui abbiamo Y... ok... a... queste zone... quindi abbiamo... la parte interna... dovete mentalmente... per classificare... parte interna... poi ci sono... questi quattro pezzi di frontiera... e poi... a parte... ci metto il puntino... per sottolineare... che i quattro puntini... diciamo... i quattro punti... dove si intersegano... questi due pezzi di frontiera... due pezzi di frontiera... li vorrei considerare... mentalmente... come una cosa a parte... questo ci servirà... non tanto per gli integrali... ovviamente... ma ci servirà... anche per gli integrali... nel senso che noi... di questi punti... dobbiamo andare a calcolare... le coordinate... ok... ma ci servirà... poi soprattutto... per quanto riguarda... il discorso... quando riguarderà... il discorso... dei massimi e minimi vincolati... allora quindi... questo pezzo di piano... è dato... dalla parte interna... questi che sono... dei sostegni di curve... molto semplicemente... e... quattro punti... immaginate... un altro caso... semplice... se io prendo... un cubo... vabbè... vabbè... vogliamo fare un po' meglio... la figura... se io prendo un po'... se io prendo un cubo... di lato 1... in... r3... diciamo... 0... 0...1 al cubo... allora... questo lo dovete considerare... come solito... la parte interna... è una cosa... poi ci sono... le... sei facce... poi ci sono... i dodici spigoli... ok... e poi... ci sono... gli otto perci... chiaro... ognuna di queste... ognuno di questi pezzi... diciamo così... ha una storia a sé... per quale motivo... ha una storia a sé... torniamo a questo caso... che è più semplice... qui dove stiamo... stiamo... a... x... uguale... y quadro su b... qui stiamo a x... uguale... y quadro su a... quindi... vedete... su questi due pezzi... di frontiera... vale... una... di queste... quattro diseguazioni... una è diventata... un'equa... equazione... naturalmente... non abbiamo... tutta... l'equazione... diciamo... tutto il luogo degli zeri... dell'equazione... x uguale... y quadro su beta... ma soltanto... un pezzetto... quindi... abbiamo... x uguale... y quadro su beta... ma poi... x... sarà compreso... tra due valori... questi due valori... dipendono... dalle altre tre... disequazioni... ok... in particolare... dipendono... da queste due disequazioni... perché se... x... è uguale... x quadro su beta... sicuramente... è... maggiore o uguale... e... sicuramente... è minore o uguale... x quadro su beta... ok... quindi... la disequazione... che ci serve rispetto a questa... la verifica... automaticamente... invece... le altre due... vedete che... quando vado a mettere il sistema... con le altre due... equazioni... ottengo questi due... quindi... qui ho... una equazione... e due disequazioni... la x compresa... tratta... la x di questo qua... e la x di questo qua... similmente... qui ho... y uguale... e... x quadro... su... b... e qui ho... y uguale... x quadro... su a... qui... ovviamente... ho... messi... siccome si intersecano... questi due rami... ho a sistema... queste due equazioni... ok... facciamo un esempio... calcoliamo... le coordinate... di un punto... calcoliamo le coordinate... se io voglio calcolare... i coordinate... di questo punto qua... cosa devo fare... devo mettere a sistema... x uguale... x quadro... su beta... e... y quadro... x quadro... su b... quindi... ottengo... dalla prima... ottengo... x quadro... uguale... y alla quarta... su... beta quadro... e quindi... diviene... y uguale... y alla quarta... su... b... per beta quadro... quindi... ottengo... come soluzione... y uguale a zero... oppure... y cubo... uguale... b... beta quadro... quindi devo fare... la radice cubica... di questa roba qui... stiamo nel primo quadrante... quindi sicuramente... la y è positiva... trovo la y... ho trovato la y... dalla y... faccio il quadrato... divido per... beh... e trovo la x... questa è la coordinata... che mi... diciamo... quindi... x... uguale... b... beta quadro... alla... due terzi... fratto b... cioè... viene... eh... se ho fatto bene i conti... b... beta... alla... quattro terzi... fratto... b... alla un terzo... ok? ah... no... è la fratto beta... se non guardo fratto beta... quindi... non è questo... il problema è... b... alla due terzi... per... beta... alla... un terzo... vediamo un po'... eh... mentre la y... è uguale... a... b... alla un terzo... per... beta... alla... due terzi... allora... vediamo un po'... se faccio il quadrato di questo... viene... b alla due terzi... si trova... beta... alla quattro terzi... divido per beta... mi viene... beta alla due terzi... se faccio... il quadrato di questo... viene... beta alla due terzi... si trova... b alla quattro terzi... fratto b... f... quindi... questa... qua... è la coordinata x... di questo punto qua... massimilmente possiamo trovare le coordinate x di questo... oppure le coordinate x di questo e di questo... anche le coordinate y ci servono... le coordinate y ci servono... per esempio su questi tratti qua... qui abbiamo... questa equazione... ma la y è compresa tra questo valore e questo valore... anche qui abbiamo questa equazione... ma la y è compresa tra questo valore... e questo valore... quindi... lasciamo stare la difficoltà tecnica la difficoltà tecnica non è che uno si mette a fare questo sviluppo in maniera completa sempre, uno fa mentalmente e deve tenere questo schema poi naturalmente per esempio in questo caso l'esercizio chiedeva di valutare l'area di questa regione qua se devo valutare l'area di questa regione qua un esercizio simile l'abbiamo già fatto mi pare con quattro parallele con i numeri però allora mi conviene fare un cambiamento di variabile però per fare il cambiamento di variabile devo determinare questi quattro punti questi quattro punti qua il cambiamento di variabile sarà tipo xy uguale a v, y su x uguale a u qualcosa del genere e quello mi diventerà un rettangolo però per determinare i vertici del nuovo rettangolo mi servono questi quattro rettici qua quindi questo schema, avere questo tipo di schema è comunque sempre utile cioè cosa è sempre utile? sapere che quando sto nella parte interna tutte le disequazioni sono strette quando una delle disequazioni è un'equazione sto sulla frontiera ok? quando due disequazioni sono e diventano equazioni in genere sto sull'intersezione di due pezzi di frontiera dove si attaccano diciamo così due pezzi di frontiera che nel caso bidimensionale sono dei punti questo diciamo a meno di casi del genere insomma casi particolari però normalmente è così chiaro facciamo un altro esempio forse più semplice però ancora serve per illustrare bene la situazione andiamo a considerare andiamo a considerare per esempio D stavolta sta in R3 e D è uguale all'insieme degli x, y, z in R3 tali che x quadro più y quadro è minore o uguale di 1 messo a sistema con z compreso tra 0 e 3 diciamo allora stavolta abbiamo stiamo nello spazio tridimensionale che cosa dobbiamo descrivere dobbiamo descrivere allora questo è questo è il piano z uguale a 0 c'è il piano x, y questo è il piano z uguale a 3 che è parallelo al piano x, y allora qui abbiamo l'intersezione che viene data da tre disequazioni questa disequazione questa disequazione e questa disequazione allora quando una disequazione viene data da una funzione continua questa disequazione si può sempre vedere una funzione continua a minore o uguale di 0 in ogni caso l'insieme è chiuso quindi questa è un'intersezione di insiemi chiusi essendo anche limitato poi per esempio sarà compatto allora questo è un caso semplice che però se lo vogliamo interpretare sempre nel nostro schema possiamo qua scrivere proprio tutti dettagliatamente tutti sotto casa allora se x quadro più y quadro è minore di 1 se z è compreso da 0 e 3 vabbè insieme degli x, y, 0 tali che valgono queste disequazioni siamo nella parte interna di D ok perché non stiamo questo è il classico il classico cilindro indefinito cioè questo è diciamo la rotazione di una striscia infinita attorno all'asse 0 e andando a imporre 0 compreso da 0 e 3 otteniamo un cilindro definito di la base è un cerchio di centro origine di raggio 1 l'altezza è 3 ok poi abbiamo supponiamo di avere x quadro più y quadro uguale a 1 z compreso tra 0 e 3 allora mettiamoci maggiore o uguale di 0 meno uguale di 3 questa che cos'è del cilindro come la chiamavate come la chiamavate la superficie laterale questa è la superficie laterale di cilindro oh però questo caso qui facciamo prima l'altro caso se z è uguale a 3 in squadro più y quadro meno uguale di 1 ovviamente se z è uguale a 3 non possiamo avere 0 uguale a 0 quindi quella stima cosa e possiamo però mettere a sistema con cioè la togliamo perché z maggiore o uguale di 0 è soddisfatto automaticamente quindi perciò la togliamo invece quest'altra non è soddisfatto automaticamente questa che cos'è? è la base superiore se faccio invece x quadro più y quadro minore o uguale di 1 e z uguale a 0 questa è la base inferiore ok? va bene adesso però non abbiamo finito perché qui abbiamo ancora delle disequazioni queste possono diventare delle equazioni per esempio qui qua può diventare un'equazione che è la stessa equazione che ottengo cioè lo stesso sistema che ottengo quando questa diventa un'equazione qua può diventare un'equazione che è la stessa è limitata lo stesso sistema che ottengo quando questa diventa un'equazione quindi abbiamo x quadro più y quadro uguale a 1 z uguale a 0 e abbiamo x quadro più y quadro uguale a 1 z uguale a 3 adesso ho saltato anche un passaggio perché un altro passaggio prima avevamo fatto così e poi abbiamo fatto diventare tutte le diseguazioni strette e qui prima di arrivare a queste che sono i sistemi dati da le equazioni possibili che posso ottenere da quel sistema se qua faccio diventare la diseguaglianza stritta che succede oppure anche qui faccio diventare le diseguaglianze strette che succede facciamolo in questo caso per esempio io non posso dire di stare nella parte interna della superficie laterale perché quella la superficie laterale non ha punti interni perché stiamo in R3 quello è un pezzo di superficie vedremo poi in R3 quindi nessun punto ha un indorno sferico tutto contenuto però vedremo che non sto su quello che si chiamerà bordo della superficie cioè tu stai su un pezzo di latta questo pezzo di latta la superficie laterale è tutto cilindro una cosa è che stai cioè se tocchi il bordo del pezzo di latta ti dà la differenza tra un punto che sta sulla superficie e il bordo il bordo è dove si uniscono due pezzi di superficie quindi diciamo la allora quando noi abbiamo fatto solo la parametrizzazione delle curve quelle superficie ancora no però quando farai la parametrizzazione della superficie tu immagina di tagliare questo pezzo di latta e lo metti in R2 a parte questo questo è un taglio che hai fatto perché per poterlo mettere in R2 ma questa adesso in R2 è la frontiera di questi quindi sarà l'insieme che è immagine della frontiera dell'insieme di parametrizzazione quando tu vai a parametrizzare la parte interna va sui punti della frontiera che non sono di bordo la frontiera va sui punti di bordo questo va su un pezzo verticale che diciamo l'abbiamo dovuto introdurre artificialmente ma questi punti qua dell'insieme di parametrizzazione andranno sui punti di bordo della superficie ok però diciamo mentalmente questo poi questo lo rivedremo ma mentalmente quello che è importante è distinguere il caso dove c'è la disequazione stretta dal caso in cui c'è l'equazione allora questo è il bordo superiore della superficie laterale ma è anche il bordo della base superiore la base superiore è un cerchio e il bordo di questo cerchio questa circonferenza è sia a bordo di questo cerchio sia il bordo da di sopra diciamo della superficie laterale allo stesso modo questa è una circonferenza che è ecco questo è quello di sotto e questo è quello di sotto quindi il nostro cilindro mentalmente lo dobbiamo rappresentare come la parte interna poi c'è diciamo il cerchio di sotto la circonferenza di sotto il cerchio di sopra la circonferenza di sopra l'ho ingrandito perché se no non si vede e ci sarebbe pure la superficie laterale quando faccio il disegno in questo modo non si capisce più niente però sostanzialmente avete capito quello che voglio dire bisogna una cosa e la parte interna del cilindro una cosa la superficie laterale la base di sotto la base di sotto e i bordi dove si attaccano la superficie qua era un esempio un po' semplice perché quello del cubo è ancora più elaborato perché nel caso del cubo tu hai la parte interna i pezzi di superficie i bordi dei pezzi di superficie che sono gli spigoli e hai anche i vertici perché qua siamo scesi a due equazioni insieme un sistema di due equazioni passi da dimensione 3 in genere almeno in casi particolari a dimensione 1 cioè 3-2 quindi arrivi a oggetti che sono per esempio questa circonferenza questa circonferenza io le posso parametizzare come curve no? io posso fare qual è la parametizzazione di questo? è facile x uguale coseno di t y uguale seno di t 0 uguale 3 t compreso tra 0 e 2 pi allora vedi che questo qua ti parametizza esattamente questa circonferenza naturalmente anche qui quando t è compreso tra 0 e 2 pi c'è un punto che è l'immagine della frontiera di questo insieme che non sta diciamo sul bordo diciamo non sul bordo su questa qua come circonferenza come curva è una curva che non ha diciamo è una curva chiusa e quindi però diciamo se la curva fosse diciamo questo questo qua è l'immagine di una curva chiusa sostegno di una curva chiusa per forza diciamo il primo punto doveva essere l'immagine per t uguale ad a e l'ultimo per t uguale a b o viceversa quindi diciamo se avevamo un pezzo di diciamo un insieme fatto così r3 la andavamo a paratelizzare come una curva necessariamente questo o è questo è raffidi a e questo è raffidi b o viceversa quindi in qualche modo questo è il bordo zero dimensionale di questa superficie curva unidimensionale cioè la superficie bidimensionale ha un bordo che è unidimensionale il sostegno di una curva che è unidimensionale ha un bordo che è zero dimensionale quando passi al bordo scendi in generale dimensioni ok è importante che cominciate anche in qualche caso semplice a ragionare in questi detti che questo aiuta molto sia nella descrizione degli insiemi quando dobbiamo fare gli integrali ma aiuterà soprattutto quando poi andremo a fare i massimi e i minimi vincolati insottorabilmente la settimana prossima va bene allora vediamo un altro caso un caso un po' più elaborato e poi facciamo una pausa grazie a tutti Grazie. Allora, qua abbiamo B è contenuto in R3, delimitato da, allora facciamo, Z uguale S quadro più X quadro. Poi abbiamo Y uguale X quadro, poi abbiamo Z uguale 0 e Y uguale 1. Ok. Allora, cerchiamo di, questo per esempio è già un insieme in tridimensione un po' più difficile da scrivere. Allora. Allora. Questo qui è la superficie di un, lo vedremo meglio durante la prossima ora, farò un accenno alle quadriche, di un paraboloide. Cioè, se prendete il piano ZX e prendete Z uguale X quadro, lo fate vuotare attorno all'asse Z e allora diventa esattamente l'equazione, vedremo poi, di questo paraboloide. Quindi questo è Z uguale X quadro più Y quadro. Poi abbiamo Y uguale X quadro. Quindi abbiamo una cosa fatta così, cerco di rispettare un attimo la prospettiva. Questo è nel piano XY. Tuttavia, siccome siamo in R3 e la variabile Z non compare, questo che vuol dire? vuol dire che quello che abbiamo in realtà è quello che si chiama anche qui un cilindro indefinito. Quindi, semplicemente, allora, l'osservazione è questa, che XY soddisfa, diciamo appartenente a R2, F di XY uguale a 0, quindi avete un'equazione in XY. e soddisfa, se è solo se, se è solo se, XY in R3 soddisfa F di XY uguale a 0, per ogni Z appartenente a R2. Allora, se io riguardo un'equazione che ho in R2, come un'equazione in R2, quindi con una indeterminata in più, che vi succede? Succede che, siccome Z non compare, quelle che devono soddisfare le equazioni sono X e Y, e quindi questo è l'equazione F di XY uguale a 0, per ogni Z. che vuol dire a livello geometrico, significa che se nel piano XY l'insieme che soddisfa l'equazione è questo, il mio insieme che soddisfa questa equazione qui, questa equazione qui, qual è? Allora, fissate un XY, per esempio questo, tirate su la retta che è parallela all'asse Z, cioè su quell'XY prendete una Z qualunque, tutti quei punti soddisfano l'equazione, e questo vale per ogni punto, quindi che cosa ottenete? ottenete quello che si chiama un cilindro, la sezione del cilindro sul piano XY è questa, e tutti i punti che soddisfano l'equazione sono tutti quelli che stanno al di so, che hanno la stessa X e la stessa Y di uno di questi punti qua, e una Z arbitraria. Quindi, fino a qua, si capisce. Ovviamente, queste due superfici si capisce dalla figura, sia pure fatta non in maniera perfetta, che si vanno a intersecare lungo un qualcosa, no? Lungo un qualcosa fatto così, più o meno. Ok? Adesso io qua ho tagliato per far vedere, perché se no non si vede la figura, ma in realtà questo continua. Quindi questo è un solido che diciamo un'altezza infinita, che di qua, dalla parte di dietro, è delimitato da questa superficie, e dalla parte di davanti è delimitato da la superficie del parabolo. Ok? Poi, noi mettiamo Z uguale a zero da sotto, ma Z uguale a zero da sotto, in realtà, in realtà neanche mi serviva, per quale motivo? Perché nel piano, se voi andate a fare solo nel piano XY, nel piano XY, quindi per Z uguale a zero, la prima superficie si riduceva un punto, mentre l'altra era sempre questa parabola. Y, questa è X, e questa è, scusate, questa è, era Y uguale a X quadro, quindi, devo mettere, per come ho fatto la figura, mi conviene cambiare i nomi di Y e X, altrimenti, allora, questa è X, e questa è Y. Ecco, diciamo, in realtà dovete farlo cambiare la figura, però non mi conviene, anche se la terna non è l'evoggia, non fa niente. Ok, comunque qua abbiamo, quindi, questo piano comunque non serviva a nulla, cioè delimita, è semplicemente tangente a questo, diciamo, la parte di sopra all'epigrafico di questo parabolo. e poi ci devo mettere Y uguale a 1. Quando vado a mettere Y uguale a 1, però non mi sembra che qua parla bene, perché se io metto Y uguale a 1, questo non mi sembra che chiuda la figura. Y uguale a 1 è un piano parallelo all'asse Y, cioè parallelo al piano XZ. Y uguale a 1 nel piano XY, questa retta qua, e la dovete portare su rispetto all'asse Z. Però questa non mi sembra chiudere la figura, quindi può darsi pure che, è vero che in genere sbaglio più probabilmente io, però in questo caso mi sembra che il discorso non sia corretto. Probabilmente questo qua non era 0. almeno così mi sembra. Cioè, per capirci, per dimostrare se abbiamo ragione, se ho ragione io o se ha ragione il testo dell'esercizio, allora, quando passo alle disequazioni, eh no, però, ok, 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 no, no, ha ragione il testo dell'esercizio. In che senso? Perché, giustamente, io ho automaticamente pensato che qua, quando passano le disequazioni, dovessi passare alla disequazione minore o uguale, eh, sulla del maggiore o uguale. Cioè, prende la parte al di sopra, e ci sta anche la parte al di sotto. Appunto, siccome se prendo la parte al di sopra, non delimita, prendiamo la parte al di sotto. Adesso, adesso sì, abbiamo questa, compresa tra questa e 0. E quindi abbiamo incorporato queste due disequazioni. Quindi sarebbe la parte al di sotto del paraboloide che viene maggiore o uguale a 0. Poi, dobbiamo prendere delle disequazioni opportune anche qua e qua. Allora, da questa parte qui, c'è y maggiore o uguale a x quadro, e y minore o uguale a x. Ok? Quindi, praticamente, stiamo dicendo che noi stiamo ecco, adesso la figura non si capisce più tanto bene, però cosa stiamo facendo? Stiamo chiudendo questo solito qui con un piano. qui, questo pezzo qui, questo si vede bene, è un pezzo di superficie di questo cilindro, poi di dietro abbiamo un pezzo di superficie del paraboloide, poi da quest'altra parte abbiamo un altro pezzo che si vede male dovuto alla prospettiva di superficie del cilindro, che si ricongiunge a questo piano qua. ok? Quindi, volendo disegnare, cercare di disegnare solo l'insieme, abbiamo una cosa fatta così più o meno. Allora... 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 questo lo faccio carteggiato nel senso che se guardate bene qui abbiamo un abbiamo andiamo a descrivere l'algeplicamento che ci aiuta sicuramente anche se perdiamo 10 minuti in più non fanno ritardiamo leggermente la pausa basta andare piano piano allora io ho queste quattro disequazioni queste quattro disequazioni poi ho vediamo un po' i pezzi di superficie quali sono sono z uguale a 0 allora se z uguale a 0 automaticamente questa è una disequazione verificata a se z è uguale a 0 poi ho y compreso tra x quadro e 1 cioè allora questo è il piano z uguale a 0 in questo piano qui c'è la x qui c'è la x avete il pezzo di superficie è questo cioè avete un pezzetto tagliato da una parabola da una retta questo è quello che sta di sotto qua questo qua naturalmente era girato in 90 gradi perché noi avevamo scambiato y e x ok questo è un pezzo di superficie poi un'altra possibilità è z uguale questo non mi serve più perché abbiamo capito che cos'è un cilindro un'altra possibilità è avere z uguale x quadro e y quadro e y è compreso sempre tra x quadro e 1 andiamo a vedere qua stiamo sopra al paraboloide andiamo a vedere che succede però qui quando vado a sostituire allora andiamo a vedere per capire qual è questo pezzo di superficie andiamo a vedere i bordi di questo pezzo allora per vedere i bordi di questo pezzo a bordo 1 abbiamo z uguale x quadro più y quadro con y uguale x quadro quindi viene y uguale x quadro e z uguale 2x quadro che sarebbe che sarebbe questo e questo ok l'altro l'altro porto però è y uguale 1 e z uguale x quadro più 1 allora quando y uguale 1 allora che è una cosa fatta così x quadro più 1 più 1 praticamente viene così cioè quando si interseca questo piano con quel paraboloide il paraboloide tocca questo piano qui è un po' scavato davanti quindi l'altro bordo è fatto così davanti ok questo è l'altro bordo è difficile da vedere quello se lo fai se lo realizzi al computer oppure se lo realizzi in pratica con dei pezzi di lamiera se vede meglio però da disegnare è un po' più difficile quindi cosa avete avete un solido che ha una base fatta a come lo vogliamo chiamare a al inviluppo commesso di un ferro di insomma è fatto così come un tacco di scatto poi avete un pezzo davanti questo pezzo davanti è un pezzo di piano soltanto che è un pezzo di piano che ha tre lati dritti e un lato curvo su questo lato curvo si appoggia un pezzo di superficie di paraboloide che chiude da dietro il quale però non chiude completamente perché ci vuole il pezzo di superficie del cilindro che raccorda il pezzo di superficie di paraboloide col piano davanti cioè non è facilissimo però se uno si mette e lo fa viene cioè non è che ci sono problemi si vede perché perciò dicevo che quello schema aiuta vedete l'algebra aiuta la visualizzazione geometrica e la visualizzazione geometrica aiuta l'algebra ok e vabbè qua possiamo adesso descriverlo completamente eccetera eccetera il completamento diciamo della descrizione con tutti i casi e sotto casi questo lo potete fare per esercizio quindi per esempio ecco l'unica cosa che facciamo andiamo andiamo a calcolare i punti delle equazioni diciamo i punti di bordo zero dimensionale allora quando vado a fare i punti di bordo zero dimensionale io devo imporre almeno tre equazioni quindi devo imporre per esempio se ho z uguale a zero y compreso tra x quadro e uno saranno qua mi verrà 1,1 meno 1,1 e la z uguale a zero sono questi punti qua se invece ho questa allora se sarebbero queste due ok allora queste due a loro volta dove si vanno a intersecare allora quando x uguale più o meno 1 y viene 1 e z viene 2 quindi questi sono gli stessi punti però qua la z è uguale a 2 poi 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 questa parte che va di dietro io l'ho fatta male perché comunque è x quadro più 1 cioè questo bordo non si intersega con questo quindi è un po' sollevato e non ci sono altri punti di intersezione perché i diciamo quelli sono tre pezzi di superficie un pezzo di superficie di parabolo un pezzo di superficie del cilindro 4 questo piano qui davanti y uguale a 1 e il piano 0 uguale a 0 di sotto ma non ci sono non mi sembra che non ci siano altri punti diciamo di bordo dei pezzi unidimensionali ok questo qua lo potete definire per esercizio però questo è interessante perché è un po' più complicato ok va bene allora facciamo pausa grazie a tutti